Musica Mia mamma ci tiene molto che io imparo molto bene l'inglese e allora sono venuto. Il momento più bello della giornata per me è quando si fa lezioni, che ci fanno imparare nuove cose però giocando. Secondo me la cosa più bella è che si fanno un sacco di amici e gli insegnanti sono madrelingua e quindi tu sei obbligato a parlare inglese. Musica Facciamo delle attività bellissime, impari l'inglese veramente bene. La cosa che mi è piaciuta di più è stato quando abbiamo giocato a basket. A me è piaciuto anche molto quando abbiamo fatto il partito di pallavolo. Per me è stata fare un'escursione in montagna. Quando siamo andati all'Adventure Park Ci fanno giocare, ci portano in giro, fare dei giochi molto divertenti. Si fanno molte gite, tutte in inglese. Il mio insegnante è Isaac, un ragazzo che viene dall'Inghilterra e ci fa fare delle attività bellissime. Adesso stiamo facendo Twister per imparare le parti del corpo. Il piede su green e noi dobbiamo mettere il piede sinistro sul lega verde. I figli hanno stato imparato in inglese e giocando Twister solo in inglese. Quando noi non capiamo qualcosa, lui si mette a disegnare alla lavagna per farcelo capire. Quindi tutto diventa più facile. La mia insegnante si chiama Elise, viene dall'America. È buonissima perché ci fa giocare. Oggi stavamo imparare le mani. E ora stavamo imparare le mani. L'anatomia della faccia di oggi. E vogliono imparare le mani. E' vero che stavano davvero piacere. Dicegnare benissimo. Alla lavagna abbiamo anche visto dei cibi, come ice cream, cheese. I love it when they want to come to me for things and they want to ask me for advice to the best of their ability. When they always come and ask me for approval. How does this look? How does this look? It really makes me happy in my heart to know that they are really curious and they want to learn. Mi piace tutto della lezione perché comunque ci divertiamo e non facciamo solo sui libri. Ci fa fare un po' inglese sul quaderno e poi ci fa giocare. Passa a track, con le carte, a twister. We just talk a lot more so we can improve their speaking. They can understand English but not really speak. So we are trying to improve that by speaking more English. Ho imparato meglio la pronuncia, la pronuncia di diverse cose e poi ho imparato molte più parole che prima non sapevo. As the week goes by they get more confident in speaking English and you see them trying a lot more too. We play games and we make it fun and it's a good way to remember when they're having fun at the same time. We've just been through emotions and feelings because we have drama this afternoon theatre where they're going to be acting out scenes, they're going to go into groups. Meet someone and say hello. Hello. Now walk like you're going to summer camp. Summer camp. The advantage of this camp for children is that they learn about team work and living with other people. They love being around each other. They love learning off of each other and following what each other does. They love writing together and working together as a group and I think that's great because they are learning and it's wonderful. Any activity that I give to them they're very excited, very happy to get on and do it and in English as well. So it's perfect. Secondo me, è proprio bello. Molto divertente. We love summer camp. We love summer camp!